Adesso noi torniamo a parlare sia di previdenza, di pensioni, sia di lavoro con gli altri nostri ospiti, ma partiamo da un fil rouge drammatico che ha segnato questi giorni, questa settimana, le morti sul lavoro che ci sono ai noi tutti i giorni. Ci sono stati alcuni casi molto forti e insomma il dibattito è tornato sul tema della sicurezza sul lavoro. Vi facciamo sentire una serie di battute da parte dei sindacati. Abbiamo perso tante persone impegnate nel volontariato, spesso morti perché non si è applicata la prevenzione, perché la sicurezza sul lavoro ancora troppe volte viene ignorata e negata ed è per questo che noi pretendiamo zero morti sul lavoro. Non è possibile accettare che mediamente due, tre persone, due, tre lavoratori, lavoratrici perdono la vita ogni giorno. Abbiamo annunciato la volontà di aprire una grande vertenza nazionale sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi abbiamo posto il problema che vengono destinate delle risorse per l'assunzione nei servizi ispettivi, per assumere nei servizi sanitari. Volei darvi un dato, tra il 2010 ed oggi vi erano 5.000 addetti nei servizi sanitari assunti, oggi che operano su questo settore sono 2.000. Quindi è chiaro che c'è bisogno di investimenti molto forti in questa direzione. Allora, intanto do il buon sabato e il buongiorno a Elsa Fornero, economista ex ministro del lavoro, bentornata. Buonasera a tutti. Allora, buongiorno a lei, do il bentornato a Cesare Damiano, anche lui ex ministro del lavoro, oggi nel Consiglio di Administrazione dell'INAIL. Saluto Rosario Rasizza, che è il presidente di AssoSOM, che è l'associazione italiana delle agenzie per il lavoro, cioè la parte privata per capirci. Noi i centri per l'impiego sono invece la parte pubblica, insomma, tanto per capire di cosa parliamo. E tra poco con noi anche la senatrice Tiziana Nisini, della Lega, sottosegretaria al lavoro. Vediamo se è collegata. Buon sabato. Ecco, ancora no, ma adesso la sentiamo. Allora, vorrei partire da Elsa Fornero. Io all'inizio dicevo, non c'è dubbio che il lavoro è la leva per la ripresa. Però dobbiamo far sì che il lavoro si svolga in posti di lavoro sicuri. E il tema sicurezza è, insomma, un fronte scoperto, no? Guardi, credo che sia una questione di cultura della sicurezza, sulla quale bisogna dire il Paese ha comunque investito, ma non sufficientemente, e poi di controlli affinché tutte le imprese operino in condizioni di massima sicurezza possibile per i lavoratori. Quindi ci sono due leve. Quello di far presente che la sicurezza è un tema essenziale, sia ad attori di lavoro e a tutti quelli che operano all'interno dell'impresa, sia ai lavoratori stessi, e poi applicare controlli e le sanzioni. Forse noi siamo deboli sulla parte di controlli, perché evidentemente sfuggono molte cose. Noi abbiamo molte imprese che sono deboli, molte imprese che fanno fatica e quindi evidentemente magari tagliano qualche spesa là dove non dovrebbero, cioè sui controlli. Però questo va molto strettamente monitorato e sanzionato. Cesare Damiano, riparto un po' dalla riflessione che faceva Elsa Fornero, cioè è un problema certamente di controlli, ma è un problema anche di norme da adeguare, nuove norme, o quelle ci sono? Le norme che abbiamo in Italia sono fra le migliori. Come sempre c'è uno scarto fra le leggi esistenti e le norme e la loro applicazione. Faccio un esempio. Nel 2008 ero ministro del lavoro, insieme a Livia Turco abbiamo varato il famoso decreto 81, che è il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. A 13 anni di distanza manca ancora l'attuazione di una delega, la famosa... A 13 anni di distanza? Sì, dal 2008 al 2021 sono passati 13 anni, manca ancora l'attuazione di una delega importante che è la cosiddetta patente appunti. Vale a dire premiare chi si comporta bene con la prevenzione e punire chi si comporta male, come facendo uno sconto ad esempio sulle tariffe INAIL. Ora, quando parliamo di morti sul lavoro, io ho un po' di memoria storica, studio molto questi argomenti. Faccio un esempio. Negli anni Sessanta, noi in pieno boom dell'economia alla cinese, avevamo 4.000 morti all'anno, 11 al giorno. E ricordo anche che... Oggi mi studi, siamo sui 1.000 all'anno, più o meno, come media. Allora, eravamo sugli 11 morti al giorno, 4.000 all'anno. E ricordo da ragazzino che Canzonissima era condotta da Dario Fo e Franca Rame, che furono cacciati dalla RAI perché osarono con uno sketch mettere in evidenza il tema della caduta dall'alto dei muratori, in quanto non c'era prevenzione. Poi gli anni ovviamente hanno fatto maturare una cultura diversa. fino al 2008 siamo passati a 1.600 morti, quindi c'è stato un grande calo. Poi dopo il testo unico siamo passati a circa 1.000 morti, quindi abbiamo tagliato di un altro terzo. Un morto solo è una tragedia per una famiglia, per una comunità, un dolore. I morti dei giorni scorsi poi hanno messo in evidenza il tema. Quello che mi preoccupa qual è, e concludo, i primi tre mesi di quest'anno, dati INAIL, i morti sul lavoro aumentano dell'11%, gennaio, febbraio, marzo. Allora, la prima domanda che uno si fa, ma vuol dire che le persone sono tornate al lavoro. Non è così perché nei primi tre mesi dell'anno scorso avevamo 20 milioni di ore di cassa integrazione medie per ogni mese. Adesso ne abbiamo 300, vuol dire che ci sono meno persone al lavoro e più morti sul lavoro. Seconda spiegazione, il Covid. Il Covid gioca per un terzo, ma se noi scomponiamo i morti, i tineri, quelli tragici che si sta recando al lavoro. Lavoro-casa, che diminuiscono al 35% e prendiamo solo i morti sul luogo di lavoro, c'è un aumento che è superiore a quello che incide il Covid del 40%. Quindi, concludo, prevenzione. Sa cosa succede? Noi preferiamo spendere ogni anno tre punti di prodotto interno lordo, 45 miliardi, per pagare le malattie professionali, gli infortuni, le inabilità temporanee e permanenti e le morti, piuttosto che impiegare quei soldi in prevenzione. Se non si fa questo cambio da ex post a ex ante, con una cultura della prevenzione, l'INAI mette a disposizione dei fondi. Le imprese non li utilizzano tutti questi fondi. Sa cosa capita? Che i governi, tutti, tagliano i fondi, anziché incentivare le persone ad utilizzarli. Se non si fa prevenzione, non si elimino morti, infortuni e malattie professionali. Dottor segretario Annisini, insomma, questo è un tema che è riesploso in tutta la sua drammaticità, dicevo, nei giorni scorsi. A cosa state pensando? Allora, si è esploso nei giorni scorsi, ricordo anche Luana Montemurlo, una donna di 22 anni che ha perso la vita. Io concordo con Damiano che è necessario attenzionare questa situazione, perché i morti nei primi tre mesi del 2021 sono superiori rispetto a quelli dell'anno passato. Quindi è importante la prevenzione, è importante un focus sulle piccole realtà. Il testo unico che ha portato a minor morti è stato importante per il nostro Paese. Ormai ha 13 anni, io credo che bisogna attenzionare le realtà più piccole, che magari sono meno attente alla prevenzione, alla formazione dei dipendenti. E quindi concordo anch'io che vadano aumentati i fondi a favore anche delle piccole realtà e che ci sia un'attenzione particolare, controlli più mirati proprio per quelle realtà che non osservano la prevenzione e la formazione dei propri dipendenti. Ci vuole insomma anche proprio un cambio, si diceva, di mentalità. Vado prima della pubblicità anche da Rosario Rasizza. Allora, certo questo è un problema, poi sappiamo quanto il mondo del lavoro è stato investito dallo tsunami Covid. Io dicevo inizialmente, poi dobbiamo vedere cosa succederà nei prossimi mesi con la fine del blocco dei licenziamenti. Però questo non è un argomento, come dire, di secondaria importanza, no Rasizza? No, certamente è un argomento molto importante, prevenzione, formazione e controllo sono le tre parole chiavi che possono e che devono risolvere e aiutare a risolvere questo tema. Certamente la piccola e media impresa a volte fa fatica ad adeguarsi a tutto quello che è l'impianto normativo che negli anni è stato impostato, aggiornato e indicato e quindi a maggior ragione in questi momenti è molto importante prendere quello che è successo, farne tesoro e aiutare la piccola e media impresa a migliorarsi da questo punto di vista. Certo è che per il tema dei licenziamenti che abbiamo già trattato in altre occasioni io sono ogni giorno sempre più fiducioso perché l'imprenditore può essere considerato folle ma non è un pazzo e quindi tendenzialmente non c'è nessuna azienda che oggi voglia licenziare non appena lo si potrà fare se la sua azienda continuerà ad avere questo ritmo di crescita che fortunatamente c'è e che noi osserviamo su tutta Italia. Sì, poi insomma l'abbiamo detto molte volte, una fotografia che vede non solo il nostro paese ma il nostro paese in particolare un po' spaccato in due perché la manifattura va molto bene, ci sono dei settori che non solo si sono ripresi ma addirittura sono stati in controtendenza poi quando parliamo di commercio, servizi, turismo, per non parlare dei lavoratori autonomi anche dei professionisti e lì c'è stato un bagno di sangue ovviamente quindi è chiaro che è disuguale. Facciamo così, andiamo in pubblicità. Damiano il fatto che uno con i mezzi della tecnologia fa una ricerca, trova di tutto e oggi non esiste, non lo so come chiamarlo, un portale, una piattaforma, diciamo generale che appunto metta insieme le esigenze di tutti i territori italiani, delle aziende quindi italiane e incroci tutto questo, ma com'è che non siamo mai riusciti a farlo? Perché l'ultimo che arriva porta la sua piattaforma personale e cambia quella che c'era prima. Noi stiamo cercando, noi stiamo cercando ad esempio come INAI Scusi, avete sistemato tutti i professor Parisi che è il capo di Ampa, no lo dico perché li avete... Aspettavamo la piattaforma del Mississippi Esatto, beh si vede che si è fermata in Mississippi. Allora, stavo dicendo che ad esempio attualmente in INAI insieme all'Istat e insieme all'Inps si sta cercando di mettere in comune una piattaforma, un polo unico informatico, sarà un'opera difficilissima per avere dei dati che si coniugano. Lei pensi all'importanza di avere l'Istat che ci dà una radiografia del mercato del lavoro? Chi è vicino alla pensione sopra i 60? Chi sono gli uomini? Chi sono le donne? Il lavoro fragile? Pensi all'importanza per cui ad esempio l'INAI può fornire dei dati sulla rischiosità della mansione esposta alla pandemia, esposta alle cadute dall'alto, esposta al caldo, al freddo e così via oppure l'Inps che ci dica quali possono essere le tendenze di una pensione flessibile. Questo dovrebbe essere fatto? Non si è fatto. L'altra cosa che non si è fatta, io sono d'accordo con quello che veniva ricordato la mancata alleanza fra l'interinale, le agenzie e i centri per l'impiego ma anche lì c'è una gelosia, diciamola, degli uni e degli altri mi tengo i miei dati, mi tengo le persone che ho tracciato verso le quali posso avere, come si dice, una risposta dando una risposta alle aziende. Lo stesso vale per le università che hanno dei database molto importanti nessuno mette insieme niente, c'è questa tendenza, come si dice, a tenere tutto in casa. In più noi siamo anche un popolo di estremisti perché anche sulla questione scuola-lavoro o la scuola è solo cultura, sono d'accordo ma figuriamoci la scuola è solo sbocco professionale ma non possiamo mescolare un po' le cose io faccio un esempio, in Parlamento alcune grandi aziende, anche alcune di sistema pubblico mi hanno detto, ma senta, come si fa a fare in modo che chi frequenta le scuole professionali nell'ultimo biennio possa avere un contratto di apprendistato? Ho dovuto fare una battaglia insieme alla commissione lavoro tremenda per convincere la commissione cultura che non era vendere sotto costo mano d'opera se quel ragazzo selezionato da quell'impresa in dieci scuole italiane lunedì, martedì, mercoledì, giovedì studiava con i suoi professori il venerdì andava in azienda a imparare un mestiere e se superava gli esami quel mestiere che gli dava una paga da 500 euro come apprendista l'avrebbe trasformato, superata la prova finale del quinto anno in lavoratore a tempo indeterminato di una grande impresa che aveva già fatto una sperimentazione on the job allora, io dico è vero che la distanza fra scuola e formazione è un problema il sistema tedesco ci deve insegnare qualcosa dopodiché non è tutto prato e tutto campo non c'è dubbio è evidente che la cultura, l'apertura mentale, lo studio della filosofia, l'algebra accanto alla pratica può aiutare la persona a crescere e poi sceglierà la sua strada no, no, peraltro mi viene, faccio una battuta mi viene da pensare, ci sono per esempio dei grandi manager che magari sono allargati in filosofia o in altro e sono magari più bravi di quelli che hanno fatto materie esplicitamente tecniche il problema è l'incontro perché io sono stanco di sentire le associazioni degli imprenditori che dicono mi mancano i tornitori, mi mancano quelli del tornio i salzatori, gli elettricisti, i idraulici mi mancano i salzatori, gli elettricisti, i panificatori eccetera e le famiglie che dicono mio figlio è disposto a fare qualsiasi lavoro e nessuno glielo offre ma ci sarà un modo di mettere in collegamento e questa è la cosa più importante io voglio dire una cosa, Camila Moreno ha cercato di fare un quadro un quadro che è difficile perché questo è un paese difficile soltanto tutte le sigle, le definizioni per la cosiddetta flessibilità in uscita insomma bisogna essere non solo molto informati ma anche quasi addetti ai lavori stavo dicendo ma anche gli addetti ai lavori hanno le loro difficoltà no, Cesare Damiano adesso cosa c'è? c'è la Pe Social, c'è l'opzione donna c'è tutta la partita che riguarda i lavori usuranti mi piacerebbe in questa parte finale con un intervento a testa capire che scenario immaginate ma io immagino questo quota 100 non verrà prorogata era a tempo, tre anni e non ha cancellato la legislazione esistente come veniva invece propagandato da Salvini perché era un intervento temporaneo è volontario è volontario, chiaramente tutto volontario e finisce con l'anno in corso io non credo che si possa semplicemente dire è finita, arrivederci a mio avviso è necessario immaginare una modernizzazione del sistema con un criterio di flessibilità universale naturalmente la flessibilità costa quindi ci sarà un problema io di questo ho parlato per anni ho combattuto per anni con gli esodati abbiamo fatto il diavolo a quattro per salvaguardare 150.000 persone lo abbiamo fatto ma non si può andare avanti come si dice a pezzi bisogna avere una misura strutturale di flessibilità come farla non sarà facile intanto si è aperto il tavolo che riguarda i cosiddetti lavori gravosi di cui lei fa parte di cui io faccio parte il ministro Orlando mi ha indicato come esperto in questo tavolo e qui si assume un principio molto importante mandare prima chi? coloro che hanno dei lavori particolarmente gravosi io credo che questa sia una cosa importante perché non possiamo più parlare genericamente di aspettativa di vita uguale fra l'operaio e il professore di vita che peraltro per il covid si è abbassata anche che si è abbassata anche per il covid perché si sa che chi svolge per 40 anni 35 anni un'attività gravosa usurante pesante e esposta la vita è più corta di chi invece fa un'attività intellettuale o un'attività di concetto quindi il principio è molto importante bisognerà fare un consuntivo di quello che è capitato e migliorare la situazione faccio un esempio io ho a cuore il tema e ho concluso dei muratori gli edili perché? perché sono inseriti fra le 15 categorie di lavoro gravoso ma cosa capita? se tu mi dici che l'operaio dell'edilizia operaio non l'amministrativo dell'edilizia con i cantieri discontinui con quel po' di lavoro nero che c'è riesce a raggranellare nell'arco della vita di lavoro arrivato a 63 anni 36 di contributi come oggi richiesto quello in pensione il diritto ce l'ha ma non potrà fruirne quindi lì secondo me bisognerebbe abbassare un attimo la quota dei contributi che cos'è il difetto secondo me di quota 100 quota 100 io non l'ho mai disprezzata insomma ha mandato qualcuno in pensione ma diciamocelo chiaro il difetto di quota 100 è che era rivolta ad una specifica platea per lo più maschile a discapito delle donne di chi aveva la fortuna pubblico impiego fosse o qualcun altro di avere 38 anni di contributi non è facile arrivarci su questo sappiamo quanto la professoressa Fornero abbia suonato contro quota 100 quindi